Non trovano pace le lavoratrici e i lavoratori della Betafence di Tortoreto, nemmeno durante le meritate ferie d'estate. Come un fulmino a ciel sereno, una nuova e inaspettata comunicazione da parte della holding mischia le carte e lascia tutti interdetti, a cominciare dai dipendenti fino ad arrivare ai sindacati di categoria. Oggi un nuovo presidio, proprio davanti ai cancelli dell'azienda, per ribadire quello che è stato detto per circa tre anni, cioè da quando, nel luglio del 2020, tutti i dipendenti si sono trovati appunto spiazzati davanti alla scelta della loro azienda. I lavoratori hanno ricevuto in modo non ordinato soltanto qualcuno di questa assemblea, uno soltanto, la comunicazione che il gruppo presidio sia stato ceduto a un consorzio di istituti di credito. Questo di fatto ci pone di fronte ad un film già visto, prima cosa una comunicazione importantissima, meramente finanziaria sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori che viene fuori durante il periodo di ferie dell'azienda, delle lavoratrici e dei lavoratori, i cancelli sono chiusi in questo momento. E in secondo luogo c'è un problema di fondo, cioè si continuano a prendere delle decisioni finanziarie, meramente finanziarie sulla loro pelle, i lavoratori stanno facendo da tre anni l'ammortizzatore sociale, senza appunto sapere quale sarà il futuro del sito di Tortoreto. Un sito di Tortoreto che è stato sempre il portafoglio della Presidia, già nel 2019 di fatto la Betafensa ha agito ripianando in un modo o in un altro il debito della holding perché bilanci alla mano si evince appunto di una cessione importante di credito. Oggi ci ritroviamo di nuovo in questa situazione paradossale per la quale a ottobre terminerà ammortizzatore sociale, nel frattempo cambia la società della holding che detiene la Betafense, una holding che ha sempre determinato le scienze finanziarie ed industriali del sito di Tortoreto perché noi non produciamo più delle cose che la holding ha deciso che non dovevamo più produrre e ci ritroviamo di nuovo in quella forte preoccupazione che abbiamo avuto, che continuiamo ad avere ma che è partita tre anni fa, per la quale appunto non sappiamo cosa accadrà della vita delle lavoratrici e dei lavoratori della Betafense. La Innamorati poi lancia un nuovo e accorato appello alla Regione Abruzzo chiedendo di attivare tutti i canali possibili affinché si risolva una problematica che va avanti da troppo tempo con le negative ripercussioni ai danni dei dipendenti, delle loro famiglie e di un intero territorio. Un territorio che non si può permettere di perdere occupazione, un territorio che non si può permettere di abbassare i volumi introduttivi. In questo momento la preoccupazione è quella di rientrare appunto e non avere lavoro perché in questo momento non ci sono ordini in pancia. La preoccupazione è che il 22 ottobre terminano gli ammortizzatori sociali. Quello che chiediamo è che la Regione Abruzzo si renda partecipe, attenzioni questa situazione ma non attraverso l'assessore al lavoro quaresimale che è stato in questo momento l'interprete di quelle che sono state gli ammortizzatori sociali ma chiediamo direttamente al Presidente Marsiglio, all'assessore, alle attività produttive da Mario di prendere questa situazione in mano, di verificare esattamente quelle che sono le situazioni, pretendere delle garanzie da un certo punto di vista e cioè quelle occupazionali e produttive oppure di capire esattamente verso quale strada si vuole andare, trovare dei acquirenti che possano rilevare il sito di Tortoreto per portare avanti la mission che è stata sempre la fortuna di questo territorio e di questi lavoratori ma è evidente che il tempo oramai sta finendo. Il 22 ottobre scade l'ammortizzatore sociale, se non ci sarà la proroga è evidente che abbiamo determinato la fine di questo sito.